Sì? Sì, Brooks? Dove sei? Ancora da McDonald's? No, io da McDonald's ci ho mangiato ieri. Pericola? Ah, per fare un accordo con i cinesi. Perché? Ah, hai saputo anche te che voglio vendere la tradita del Beautiful. Eh, perché la voglio vendere non lo sai, giustamente. Abbiamo 100 figli, hanno detto che uno lo voglio vendere a un figlio giuventino. Però gli ho detto che facciamo 50 e 50, ho detto che io e i giuventini non do neanche la metà, però a questo posso darlo. Però hanno detto che alla Ritalia daranno qualcosa. Però gli ho detto che se alla Ritalia combinano pasticci, io non pregarò niente. Perché io devo partire. I 22, lui o io devo partire. Ah, si può fare uno sconto con la Ritalia? Vabbè, si può fare. Cioè? Quale sconto? No, non superiamo i 1000 euro, ok? Vabbè, l'abbiamo in Italia. Vabbè, l'abbiamo in Italia. Vabbè, l'abbiamo in Italia.